Dalle tradizionali tre tratte ad una regata in un'unica soluzione. La 37esima edizione della regata sulla rotta dei Trabaccoli, che da quattro decenni unisce in barcavela la sponda pesarese con quella istriana, decide per una scelta radicale. Complici costi sempre meno sostenibili, quest'anno la regata si terrà in un'unica soluzione. Solo Pesaro-Pola, con partenza dal porto venerdì 28 aprile alle ore 16 e con l'organizzazione della Lega Navale pesarese, che motiva così questa scelta. Siamo arrivati a questa scelta, un po' sollecitati dai vari skipper, che è troppo impegnativa perché la gente lavora ovviamente, tre traversate portano via parecchi giorni. Quindi abbiamo scelto, abbiamo deciso di fare un'unica prova Pesaro-Pola. Vedremo il risultato, perché ancora non lo sappiamo, vedremo il risultato e poi decideremo cosa fare in futuro. La Lega Navale confida che questa scelta non limiti oltremodo la partecipazione delle barche croate. Non lo so se le barche croate arriveranno o meno. Se vogliono partecipare dovrebbero venire qua liberi e poi partecipare alla regata Pesaro-Pola. Dal ridimensionamento ad una rinnovata ambizione nell'anno di Pesaro, capitale della cultura 2024. Quello di un ritorno a Rovigno, meta tradizionale interrottasi nel 2015 per la indisponibilità del porto croato. Rossini ha invitato gli assessori Vimine della Dora ad un lavoro di diplomazia per tornare a hissare le vele sulla tradizionale Pesaro-Rovigno. Noi quest'anno ci siamo dati da fare per vedere di ritornare a Rovigno perché c'è richiesto dal comune, da molti regatanti, c'è richiesto di ritornare a Rovigno. Rovigno purtroppo quest'anno non si è potuto fare niente per questioni organizzative e cose del genere. L'anno prossimo vorremmo ritornare a Rovigno. In tal senso noi ci siamo mossi come Lega Navale già da un mese, un mese e mezzo fa e abbiamo scritto che avremmo in mente di fare una veleggiata, non una regata, una passeggiata, una passeggiata a mucchiare 10-20 barche, quelle che saranno, andare a Rovigno per riallacciare quei rapporti proficui e piacevoli che avevamo 4-5 anni fa. però non abbiamo avuto una reazione da parte sia dell'ACI Marina, che è il club, che del club nautico, del club maestral, non abbiamo avuto risposta.